Si sono tenuti nella chiesa di Saint-Étienne-Dumont a Parigi, nel suo amato quartiere latino, i funerali di Max Gallot. Il celebre storico e scrittore francese, figlio di immigrati italiani da tempo affetto dal Parkinson, è morto a 85 anni. Gallot ha unito i saggi storici a una serie di romanzi storici sull'epopea di Bonaparte che furono autentici best-seller e sulla vita di altri personaggi come Robespierre, Mussolini, Garibaldi. In politica era passato dalla militanza di sinistra alla rivalutazione di Charles de Gaulle e al sostegno di Sarkozy nel 2007, senza mai cedere però sui principi fondatori della Repubblica. Intellettuale molto amato in Francia, prima di trasferirsi a Parigi negli anni 70 era cresciuto a Nizza, a rendergli omaggio alle sequie anche il politologo Gilles Keppel. Era una forza della natura, ha detto. Era un colosso che ha deciso di impossessarsi della letteratura francese. Come scrittore è stato fantastico perché ha scoperto il segreto del successo, una cosa che accade raramente agli scrittori. Tra le persone presenti per l'ultimo saluto a Gallot, anche il sindaco di Nizza, Christian Estrosy. È stata una personalità straordinaria che ci lascia una eccezionale eredità che ormai appartiene al patrimonio della letteratura e alla storia del nostro paese. Gli intitoleremo una strada a Nizza, annunciato poi Estrosy.